La Regione ha incrementato i fondi destinati nel 2017 ai comuni per migliorare le condizioni di avviabilità rurale e forestale. Ai 20 milioni dello scorso anno si aggiungono altri 12.698.156 euro. Il provvedimento è stato firmato dall'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria, con un decreto dedicato alla sottomisura 4.3.1 del programma di sviluppo rurale 2014-2020. I nuovi fondi, spiega una nota alla Regione, faranno scorrere la graduatoria dalle domande presentate dalle amministrazioni locali permettendo di finanziare altri 63 comuni che si vanno a sommare ai 100 già beneficiari della prima transce del bando, che è stato pubblicato nel 2017, con un importo massimo finanziabile per domande di sostegno fissato a 200.000 euro, IVA inclusa. Nel caso delle domande presentate dai comuni associati, l'importo poteva essere moltiplicato per il numero dei comuni interessati dall'intervento fino a 600.000 euro. Tra gli interventi ammissibili, quelli che puntavano a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale che ricadevano in modo prevalente in una zona agricola o di salvaguardia, con riferimento in questo caso alle zone boschive, al fine di ripristinare ove compromessa la percorribilità. Nel provvedimento erano stati inoltre inclusi, spiega la Regione, gli investimenti che riguardano la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di regimazione delle acque superficiali. Con la spendita di tutte le risorse presenti nella misura del piano di sviluppo rurale, diamo risposte positive, particolarmente attese alle richieste di numerose aziende agricole e delle amministrazioni comunali, in cui queste operano, ha sottolineato l'assessore Caria. Migliorare la viabilità delle nostre campagne favorisce da un lato la crescita del tessuto imprenditoriale dell'agricolo sardo e dall'altra assicura una gestione più efficiente del territorio nel caso di interventi urgenti legati a incendi o ad altri particolari fenomeni calamittosi.